Ciao, sono Alessandro Zan e lotto da una vita per i diritti. Forse alcuni di voi mi conoscono per il DDL Zan, la legge contro i crimini d'odio, che è stata affossata al Senato in modo vergognoso da quell'applauso dei senatori di destra. Il Senato approva. Il Partito Democratico ha deciso di fare il primo video su TikTok proprio sui diritti. Senza diritti non c'è democrazia e parlo di tutti i diritti. Il diritto di camminare mano nella mano con il proprio compagno o con la propria compagna per strada senza essere picchiati. Il diritto a vivere in un ambiente sano e sostenibile. Il diritto che quando si fanno gli stage o i tirocini uno deve essere pagato. Basta con lo sfruttamento dei giovani, il lavoro deve essere pagato. Basta con i lavori precari, il diritto ad avere un lavoro stabile. Il diritto di vivere in una società senza barriere culturali e architettoniche per le persone con disabilità. La destra ha sempre usato il benaltrismo per fermare i diritti. Eh, ma ci sono sempre ben altre cose a cui pensare. In realtà questa è una strategia che è usata sempre per fermare il cambiamento. Il 25 settembre i diciottenni potranno votare, oltre che alla Camera, anche per la prima volta al Senato. E dunque potranno cambiare quel Senato che ha affossato il DDL ZAN, che ha affossato lo USCOLE, che ha affossato la legge sulla cannabis, che ha affossato il fine vita. Insomma, con il voto possiamo migliorare la nostra democrazia. Dunque, andiamo a votare? Andate a votare!